Presidente, in questi giorni noi giornalisti ci siamo affrettati a pubblicare la notizia a merito di una comunicazione che vi è arrivata dal Ministero sulla vostra proposta di sburocratizzare la realtà dell'area protetta del Cilento Vallo di Dianne Albune. Facciamo chiarezza su quello che abbiamo interpretato come giornalisti e su quella che invece è la realtà? La realtà che c'è oggi c'è un direttivo, un presidente e un direttivo dell'Ende Parco che è fortemente impegnato in un processo di sburocratizzazione di questo territorio. Io ho detto dall'inizio che i segnali devono partire innanzitutto dal basso, abbiamo lanciato un masso in uno stagno di quella palude burocratica che purtroppo crea non pochi problemi ai cittadini, il nostro è un parco fortemente andropizzato, ci sono tante le famiglie che vivono nel parco e io trovo e noi troviamo inaccettabile che per delle posizioni, delle situazioni di buonsenso noi dobbiamo rendere difficile la vita ai nostri cittadini. Questo ovviamente non lo possiamo consentire. Ecco da qui nasce l'esigenza di dare un segnale dal basso e questo abbiamo voluto fare. Oggi abbiamo detto che chi ha una casa in una zona C e i mari gli piove dentro non è accettabile che deve aspettare 60 giorni per avere un'autorizzazione o chi vuole cambiare un infisso o chi nel nostro paese per fare una pulizia di un nostro fiume ci vogliono 18 pareri. Poi parliamo della prevenzione però quando c'è l'alluvione. Allora io dico dobbiamo un pochino dare dei segnali dal basso. Noi abbiamo fatto il direttivo che ringrazio, ho avuto veramente molto coraggio e ho dimostrato di essere un direttivo fatto da persone per bene e attaccate al territorio perché noi abbiamo voluto dare un segnale dal basso dicendo ecco noi vogliamo mettere in campo delle azioni di buonsenso che vanno contro quella palude burocratica quindi in un processo vero di sburocratizzazione. Il ministero ovviamente giustamente e anche opportunamente ha risposto con una serie di osservazioni cosa che in genere non fa il ministero dandoci anche un supporto importante richiamando l'assenza del regolamento del parco. Io voglio ricordare che il regolamento andava fatto subito dopo l'approvazione del piano del parco che ha qualche anno quindi certamente non ci possiamo prendere responsabilità che non abbiamo quindi e né tanto meno voglio dare responsabilità ad altri però noi siamo anche impegnati oggi nella revisione del piano del parco e contemporaneamente nel chiaramente nel redigere anche il regolamento che supererà alcuni problemi così come alcuni problemi saranno sono stati superati anche dall'attuale legge in discussione adesso alla camera con l'atto finale e che ci auguriamo diventi al più presto legge perché potrà certamente aiutare un po' le nostre famiglie. Ecco quindi ripeto il principio importante che oggi c'è un parco che sta dimostrando concretamente di essere dalla parte della gente dalla parte delle persone per bene perché le tante famiglie che vivono nel parco devono vivere anche in modo dignitose e devono avere la possibilità di non complicargli la vita mentre per coloro i quali vogliono fare gli speculatori cioè vogliono trarre profitto dall'area protetta in quel caso mi avviso le norme vanno anche o meglio i vincoli vanno anche aumentati perché non dobbiamo e non possiamo consentire agli speculatori di fare affare finalmente c'è un direttivo che fa la differenza tra le persone per bene e tra gli speculatori io penso che questo dovrebbe essere un motivo di merito non lo voglio dire perché lo abbiamo realizzato noi ci mancherebbe altro però è un dato oggettivo continueremo in questo impegno per la sburocratizzazione non solo Andrete avanti, nessuna bocciatura andrete avanti Andremo avanti perché ma il ministero ripeto ci ha fatto una serie di situazioni che noi stiamo già lavorando le abbiamo già accolte che saranno inserite molte le quali nel regolamento altre posizioni li stiamo sostenendo per fare in modo che cambiano alcune norme cambiano un po' delle norme ma ripeto noi dobbiamo uscire da questa situazione che rende la vita difficile alla gente. Il vero grande problema non solo del Parco Nazionale del Cilento o Allona degli Alburri ma dell'Italia è quella che c'è bisogno in questo paese di una forte azione di sburocratizzazione è finito il tempo che tutti lo diciamo nei vari passaggi derivisivi tutti diciamo che c'è un'eccessiva burocrazia c'è una palude burocratica ma poi non facciamo degli atti concreti ecco una volta tanto c'è un direttivo che ha fatto degli atti concreti che vanno in questa direzione poi certo dobbiamo confrontarci e lo vogliamo fare nel rispetto delle norme per carità ma ci sono anche delle posizioni di buonsenso che noi vogliamo quantomeno evidenziare poi dopo ovviamente cerchiamo di ottenere anche i risultati concreti ecco siamo impegnati in questo è impegnato in queste ore anche sulla vicenda del direttore facente funzione in attesa della nomina insomma ministeriale del nuovo direttore c'è bisogno di avere una figura facente funzione il tribunale ha detto no alla nomina di ciao si attende ora la nomina del nuovo direttore facente funzione tra le tante indiscrezioni c'è già un nome rispettiamo le ordinanze perché in questo caso non si tratta di sendenza ma di un'ordinanza così come abbiamo avuto ragione nel primo giudizio c'è un secondo giudizio che ci dice delle cose noi recepiamo rispettiamo le ordinanze sono già impegnato a fare la valutazione comparativa tra coloro i quali hanno i titoli per poterlo fare valuterò non solo il profilo migliore ma valuterò anche le opportunità io penso che un responsabile legale di un ente come in questo caso il presidente debba fare una valutazione anche sulle opportunità e le inopportunità e questa è la valutazione che farò io non espongo l'ente ovviamente a condizioni di difficoltà devo cercare di mantenere chiaramente un profilo sono tutti a mio avviso idoni e tutti quanti hanno tutti lo stesso diritto e soprattutto le stesse qualità anche professionali per poter accedere ci mancherebbe altro qui non è in discussione soltanto l'aspetto professionale scegliendo una persona piuttosto che un'altra io non faccio delle bocciature le bocciature uno le fa quando c'è una persona che viene rimossa io non ho rimosso nessuno faccio delle scelte rispetto a quello che la legge mi dice di fare le scelte vanno fatte non solo sul profilo professionale che ripeto sono tutti idoni e hanno tutte le esperienze importanti ma anche sulle opportunità che io molte volte ritengo soprattutto alla luce di quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione in questi giorni noi dobbiamo dare anche dei segnali forti e abbiamo il dovere di darlo nei confronti dei cittadini quindi questo è un po la nostra posizione in questi giorni deciderà sì 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 no la decisione avverrà verrà breve ma d'altra parte voglio sottolineare che noi abbiamo sostenuto noi non è che siamo fermi anche rispetto alla nomina del direttore in modo definitivo noi abbiamo fatto una delibera dove noi abbiamo invitato e chiesto al ministero di riaprire l'albo dei direttori che era fermo al 2001 quindi per dare anche più possibilità ai parchi devo dire che il ministero è andato in questa direzione non solo ha riaperto l'albo abbiamo anche è chiuso anche il termine per la presentazione delle domande stanno per quello che ne so stanno analizzando anche le varie domande prevenuti a breve avremo anche il nuovo albo e quindi mi auguro che in tempi rapidi riusciremo ad avere anche la figura del direttore perché questo ente ha bisogno di stabilità questo ente ha bisogno di linearità anche e noi vogliamo fare questo io da questo punto di vista sono molto sereno anche rispetto agli attacchi che ci sono in questo periodo ho le spalle forti ma la forza delle mie spalle è dettata dal fatto che non ho scheletri nell'armadio e non ho posizioni da difendere non ho parenti da difendere oppure situazioni strane o torbide da tutelare io sono da questo punto di vista sono sereno sto facendo il lavoro nell'interesse dell'ente della gente che vive in questo ente cercando di portare avanti un processo di moralizzazione su certi temi io ci ho messo la faccia nella mia vita i temi della legalità della trasparenza sono per me motivi condizioni essenziali del mio vivere quotidiano è ovvio che li trasferisco nella mia azione amministrativa e nel ruolo che oggi ho rivesto quindi mi rendo anche conto che quando si toccano determinate situazioni quando si toccano determinate posizioni anche di potere chiamiamole così o di interesse forse rende ancora meglio l'idea beh ci sono delle reazioni me le aspettavo queste reazioni sono qui ripeto andrò avanti se qualcuno pensa ed è un messaggio che voglio lanciare che io mi intimorisco di fronte a queste velate minacce allora probabilmente non mi conosce noi andremo avanti ho la fortuna di avere un direttivo di profilo di persone per bene di persone che conosco il territorio che insieme a me oggi vogliono andare nella direzione di dare una possibilità a questo territorio crediamo molto nel parco crediamo molto nel territorio del del parco nazionale del cilento vallone degli alburni e siamo impegnati oggi per cercare di fare qualcosa per dare qualche opportunità amare i nostri giovani per valorizzare qualcosa nel nostro territorio non ripeto senza alcun tipo di interesse se ci riusciamo penso che un bene per tutti non è un bene per noi se non ci riusciamo chiaramente arriverà il momento in cui presenteremo il conto di ciò che abbiamo fatto ieri la codacons il codacons a salerno ha presentato una serie insomma di iniziative di abbattimenti tra cui a conquista insomma della demolizione dell'ecomosso di petina questo è un altro importante risultato che avete raggiunto un importantissimo risultato perché un impegno mantenuto non è stato facile abbiamo anche qui fatto avviato una perché sempre per quella palude burocratica ovviamente in italia veramente un paese della burocrazia purtroppo mi rendo conto però ci siamo riusciti abbiamo abbattuto anche una volta tanto quella situazione burocratica che ci creava degli ostacoli e il 21 avremo finalmente l'inizio dei lavori per l'abbattimento del cosiddetto ecomosso di petina che aveva una certa valenza io ho dato ragione al codacons ringrazio il codacons per avermelo segnalato è stata una delle prime azioni che ho portato avanti mi ero impegnato col codacons ma con i cittadini ma soprattutto con il territorio perché io penso che laddove ci sono delle strutture che non sono completate bisogna fare una doppia valutazione nel caso quelle strutture possano servire e non creano un imbatto ambientale particolarmente diciamo duro e drammatico andando a deturpare quello che è il pregio di un'area protetta allora in quel caso è giusto anche completare e cercare di farla funzionare in altri casi dove c'è un problema di opportunità proprio per il contesto nel quale si trovano sono anche praticamente inutili magari il motivo per il quale sono nati un po di anni fa allora aveva un senso perché c'era magari un significato ben preciso e una funzione ben precisa oggi è venuto meno quel quel senso e quella funzione ritengo un'opera incompiuta si può ridare restituire spazio ad un'area protetta al territorio noi ci preoccupiamo sempre di occupare gli spazi una volta tanto liberiamo un po di spazi sul nostro territorio e quindi finalmente libereremo anche nel parco nazionale del cilento valore degli alburni in un luogo bellissimo perché quello è un luogo bellissimo del nostro territorio gli alburni sono particolarmente chiaramente di pregio soprattutto tutta la parte montana è veramente molto molto bella libereremo un po di spazio e quindi procederemo con il primo abbattimento per me motivo di grande soddisfazione non lo confesso perché da ambientalista convinto quale sono e non sono un integralista dell'ambientalismo ma ritengo che laddove vanno date dei segnali anche perché questo è un segnale è un segnale importante che noi vogliamo dare un segnale che noi ascoltiamo tutti quando ci sono delle posizioni di buon senso un segnale che noi lottiamo contro quel colosso burocratico è un segnale che noi realmente oggi ci sta a cuore il territorio in tutti i suoi aspetti anche in quelli paesaggistici quindi ripristinare o ridare spazio al parco io penso che è un'azione lodevole ma soprattutto diamo un forte segnale anche al nostro territorio grazie grazie